Vuoi scoprire come rendere più semplici ed efficaci alcune tecniche di terapia odontogliatriche? Vuoi inoltre imparare a curare i tuoi pazienti senza usare troppi farmaci o chimica o campi magnetici? Salve, sono il dottor Giuliano Angeroni, sono odontogliatra, dal 2018 applicatore di nanotecnologia topecce. Negli anni divento anche tutor formativo topecce in odontogliatria e tutor formativo della nanotecnologia applicata al mondo dello sport. Ti invito a scoprire come integrare la nanotecnologia all'interno della pratica clinica quotidiana attraverso l'utilizzo di nuovi protocolli e di nuovi dispositivi di nanotecnologia topecce che hanno totalmente cambiato il mio modo di curare i pazienti in ambito odontogliatrico e in ambito posturale. Durante il corso impareremo a utilizzare le tecniche per il controllo del dolore, dell'infiammazione in ambito odontogliatrico, le tecniche per liberare velocemente la mobilità della funzione della mandibola ed imparare a mettere in bolla la postura dei nostri pazienti senza usare farmaci, senza usare chimica. Un innovativo viaggio sull'uso della nanotecnologia applicata alla salute. Questa tecnologia ti aiuterà ad affrontare molte delle problematiche cliniche presentate dai pazienti, dalla cefalea miotensiva all'occhio acuto e cronico della mandibola, al dolore dell'articolazione temporomandibolare, problematiche posturali come cervicaggie, dorsalgie e lombalgie. Inoltre aiuterà i pazienti a ridurre velocemente l'ansia, lo stress e la paura delle terapie e vi aiuterà a controllare il dolore odontogeno o post-chirurgico, senza usare troppi farmaci o chimica. Non perdere l'occasione di rendere i tuoi trattamenti odontogliatici più veloci ed efficaci. Non perdere l'occasione di diventare un professionista migliore. Partecipa al corso base top action odontogliatria. Ti aspettiamo in aula.